Ha chiesto il rito abbreviato l'avvocato Cristian Ferretti, difensore del cameriere rumeno di 28 anni, residente a San Giuliano milanese, finito a processo per tentato omicidio nei confronti dell'ex datore di lavoro, il titolare di un ristorante di pallanza, nel luglio del 2019. Questa mattina l'udienza davanti al GUP Beatrice Alesci, dopo che la procura aveva chiesto nei suoi confronti il giudizio immediato, contestando l'aggravante dei futili motivi e della premeditazione. La difesa aveva chiesto al giudice anche una super perizia, richiesta non accolta. Ci si baserà sulla consulenza tecnica chiesta dalla procura. Il giudice ha poi rinviato il processo all'11 novembre. La vittima, che aveva riportato ferite gravissime e una serie invalidità, si è costituita a parte civile con l'avvocato torinese Antonio Foti. L'aggressione era avvenuta al momento della chiusura del locale. Il cameriere avrebbe aggredito il titolare con una bottiglia di birra, ferendolo gravemente. Ora si trova in carcere a Lodi.